Si stacca una porzione di cornicione in pietra dalle gallerie Luigi Stuzzo di Caltagirone. Fortunatamente in quegli attimi sul marciapiede della centralissima via Duomo, salotto del centro storico, non sopraggiungevano pedoni. Altro neo dunque che si aggiunge al giorno della festività patronale di San Giacomo, dove in piazza Municipio la città si stava preparando per vivere la festività. Lo spazio interessato dal distacco del cornicione è stato opportunamente messo in sicurezza dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale. Con i Vigili del Fuoco impegnati a domare un grosso incendio sviluppato in località Croce Vicario, è stato così rimandato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che con l'autoscala dovranno poi rimuovere altre ed eventuali parti pericolanti del cornicione. Grazie a tutti.